Oggi il vino di Puglia viaggia sui migliori aerei, viaggia nelle migliori compagnie aeree e l'export è cresciuto esponenzialmente del 20% rispetto a 5 anni fa. Quindi sicuramente i vini di Puglia ci portano in giro e comunicano la Puglia in tutto il mondo a oggi. La nostra struttura è un wine resort, è un castello situato nelle campagne della terra dei Missapi, è una struttura dei primi del Novecento immersa nel verde tra oliveti e vigneti e a due passi dal mare. Viniglia offre ospitalità ma associa all'ospitalità anche la degustazione di quelli che sono i nostri vini.